Sono Francesco Sticchi Damiani e lui è Gianluca Micella. Questa è ovviamente la mia prima esperienza con la Targa Florio a media perché è il primo evento che viene organizzato con la media veloce e proprio per questo sto venendo a provarlo. Ho effettuato per due anni la Rally di Monte Carlo che è praticamente la stessa tipologia di gara e adesso sono proprio curioso di fare questa bella esperienza in una regione che ha molto. Giuseppe Conti, Brescia, ha fatto fino adesso Rally di velocità con la macchina. Rispetto alla velocità normale questa invece è più divertente perché in questa formula tu vai sempre e devi andare a una velocità ben precisa velocità alta 50 all'ora che in un rettilineo non dice niente ma se tu consideri le madonie con i tornanti, le curve, c'è da andare, c'è da muoversi e quindi è un modo più divertente di fare queste gare. Noi siamo l'equipaggio 525, canzone canzone, papà e figlio. Abbiamo questa 112 Abarth, condividiamo e si avverò un sogno di partecipare alla Targa insieme dopo averla vista come spettatori, ora siamo un po' in prima persona. Ci divertiamo, divertiamoci. È la nostra prima esperienza quindi... Un fine settimana diverso. Un fine settimana diverso. La Cefalù che è la più lunga, 28 km, ed è sicuramente quella che è più impegnativa e che quindi aspettiamo con più ansia.